Musica Caso Covid sospetto, il tampone è negativo, ma quanta confusione. E' risultata negativa al contagio la paziente trasferita ieri all'ospedale Vittorio Emanuele dalla Clinica Santa Barbara, dove il test serologico di routine aveva rilevato valori alterati che hanno fatto pensare ad una possibile infezione virale. Ma nel giro di poche ore si è assistito ad un vero e proprio cortocircuito comunicativo istituzionale tra ASP e clinica. Emergenza Covid, un giorno con gli angeli in tuta rossa. Le loro tute rosse sono diventate un'ancora di gentilezza per tanti cittadini che in questi giorni di emergenza di coronavirus hanno chiesto il loro sostegno. I volontari della Croce Rossa, praticamente in prima linea dove c'è bisogno, non potevano certo mancare in quello che forse è il periodo più buio della storia moderna del paese. Fondi tagliati per gli scavi di via Romagnoli. C'era però un accordo con i proprietari. Il taglio di 100.000 euro previste per una campagna di scavo nel sito archeologico di via Romagnoli è stato ufficializzato dalla regione. Secondo l'ex assessore comunale Trainito, il progetto si può recuperare e c'era già un accordo con i proprietari dell'area per l'acquisizione da parte del comune. Giovanni Iudice dona le sue opere per l'emergenza Covid. L'artista gelese dona due sue tele per aiutare gli ospedali nell'emergenza Covid. Giovanni Iudice è tra gli 80 artisti che hanno deciso di donare una propria opera, in questo caso un dipinto, nell'iniziativa promossa dalla Valle d'Aosta denominata Arte per la Vita. Ma Iudice lo ha già fatto anche per l'ospedale di Gela. Estorsioni a Roma scatta il processo per Irinzivillo. Prosegue l'istruttore dibattimentale nei confronti di presunti fiancheggetori del boss 60enne Salvatore Irinzivillo. Anche a Roma non sarebbero mancate minacce e tentativi di estorsione ai danni di esercenti, così da favorire aziende vicino al gruppo criminale. Ben trovati con l'informazione su Tele Gela e Quotidiano di Gela. Apriamo oggi il nostro notiziario con una vicenda che ha quasi delle paradossale, perché ieri è stata una giornata veramente convulsa, soprattutto nella serata di ieri, perché abbiamo parlato attraverso il nostro quotidiano di Gela di un caso, di una paziente, di una donna che è stata prima ricoverata presso la clinica Santa Barbara, poi dopo un test serologico obbligatorio, e non sicuramente fatto come dirigenza particolare da parte della clinica Santa Barbara, è risultato appunto con un valore alterato. Da qui è scattato una sorta di panico, con la paziente trasferita nuovamente all'ospedale Vittorio Emanuele, al reparto Covid, poi l'effettuazione del tampone, e questa mattina finalmente è risultata negativa. La buona notizia sicuramente per la paziente e per i loro familiari. Però c'è stato un corto circuito di comunicazione, sicuramente che ha creato non poca apprezzione. Vediamo. Positiva al Covid, anzi no, tutto confermato e smentito nel giro di 24 ore. Rientra l'allarme sulla signora trasferita ieri all'ospedale Vittorio Emanuele dalla clinica Santa Barbara, dove il test sierologico di routine aveva rilevato valori alterati che facevano pensare ad una possibile infezione virale. Per questo motivo la donna è stata rimandata all'ospedale Gelese, dove è stata sottoposta a tampone e ricoverata in via precauzionale al reparto Covid del Vittorio Emanuele. Il risultato del tampone è arrivato in mattinata. La paziente è risultata negativa, ma le polemiche non si placano. Nel giro di poche ore si è assistito a un vero e proprio corto circuito comunicativo istituzionale. Dopo che la prima notizia, apparsa sul quotidiano di Gela, è arrivata immediatamente la chiarificazione del manager ASP Alessandro Caltagirone. Secondo il direttore generale, la paziente si era presentata al pronto soccorso del Vittorio Emanuele con forti dolori allo stomaco e nessun sintapo respiratorio, febbre o tosse. Il protocollo, firmato per l'emergenza tra le due strutture, prevede che i pazienti con sintomatologia febbrile e respiratoria possano essere trasferiti alla Clinica Santa Barbara solo dopo l'effettuazione del tampone oro-rinofaringeo. Per i pazienti senza alcuna sintomatologia respiratoria come la signora, invece, lo stesso protocollo prevede che la Clinica Santa Barbara effettui un test sierologico in ingresso. Una volta arrivata in clinica, la donna è stata immediatamente sottoposta al test sierologico, così come prevede il protocollo che è stato firmato proprio tra la Santa Barbara e l'ospedale Vittorio Emanuele, un test che ha dato risultati positivi in merito agli anticorpi virali. In questo caso, la donna è stata quindi rimandata indietro al Vittorio Emanuele, dove è stata ricoverata nel reparto Covid. Nel caso in questione, quindi, il test in ingresso ha rilevato un'infezione virale, ma non ha stabilito la positività al coronavirus. Fin qui sembrava tutto chiaro, se non fosse che pochi minuti dopo la stessa clinica ha diramato un comunicato ufficiale in cui affermava la positività della paziente, mettendo in allarme i familiari e tutti quelli che erano stati in contatto con loro. La presunta positività confermata in grassetto nel comunicato della clinica in realtà non risulterebbe dagli esiti del tampone orofaringeo effettuato al Vittorio Emanuele, così come confermato da un comunicato del sindaco Lucio Greco questa mattina. Resta la grande confusione nella comunicazione di notizie così delicate. Abbiamo provato a raggiungere i vertici della clinica Santa Barbara, ma senza successo. Nella struttura bocche cucite dopo il comunicato di ieri e nessuno sembra aver voglia di parlare se non per tranquillizzare i degenti ricoverati. Ciò che sembra certo è che tutti i protocolli di sicurezza siano stati rispettati e questo è certamente un sollievo, un po' meno quelli relativi alla comunicazione, ma questa è sicuramente un'altra storia. Da giorni ormai il numero di persone in circolazione è notevolmente aumentato senza che ci sia alcuna autorizzazione in tal senso. Ieri i poliziotti delle volanti e quelli del reparto di prevenzione crimine di Palermo hanno individuato e sanzionato sette persone. Erano in spiaggia su un tratto del lungomare Federico II di Svevia. Dopo aver notato l'intervento degli agenti avrebbero tentato anche di allontanarsi, ma sono stati fermati. Sono state irrogate sanzioni amministrative per violazione delle misure anti-Covid. I controlli proseguono. Gli stessi poliziotti hanno fatto sapere che in questo periodo è importante che tutti, incluse le persone più giovani e sane, evitano assembramenti. Queste foto fanno proprio riferimento al controllo della polizia relativo a ieri. Restiamo su questo argomento perché oggi siamo andati insieme ad una delle tante realtà gelesi che stanno dando una mano nel mondo del volontariato tramite associazioni, enti privati, enti religiosi per dare appunto sostegno a chi non può uscire di casa. Il nostro Gioritalia oggi ha fatto un giro insieme alla Croce Rossa per vedere come si svolge una giornata tipo in un periodo di coronavirus. Le loro tutte rosse sono diventate un'ancora di gentilezza per tanti cittadini in questi giorni di emergenza coronavirus. I volontari della Croce Rossa, praticamente in prima linea dove c'è bisogno, non potevano certo mancare in quello che è forse il periodo più buio della storia moderna del paese e gli angeli in tuta rossa ci sono anche qui in città. Stamattina siamo andati a trovarli nella loro sede operativa in via Santa Rosalia alla periferia nord-est della città. Al nostro arrivo i volontari sono già in fermento per le attività della giornata. Un equipaggio in ambulanza si è già recato all'ex mattatoio per dare supporto alla campagna di tamponi dell'Asp che va avanti da giorni. Un'altra squadra presidia il pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele per smistare i pazienti nell'eventuale percorso Covid. In una stanza invece una psicologa è al telefono con chi in questi giorni ha bisogno di un supporto o anche solo di una parola amica. Ad alcuni tocca il compito più delicato assistere ai medici nei tamponi domiciliari, quelli che vengono effettuati ai sospetti contagiati. In quel caso i volontari si sottopongono a un lungo rituale di vestizione. Quello che stiamo vedendo adesso è sostanzialmente la procedura di vestizione che i volontari applicano prima di andare a effettuare un tampone direttamente a domicilio. una procedura che è la stessa che utilizzano sostanzialmente anche gli operatori degli ospedali all'interno dei reparti Covid. Come vedete c'è una tuta, c'è un triplo guanto, c'è la mascherina e naturalmente il gel disinfettante. Una procedura lunga e complessa ma che è indispensabile per garantire la totale asetticità dell'operatore. Come si sta là sotto? Di certo non si sta bene, però si deve fare. È importantissimo che la sicurezza di ogni volontario venga portata avanti sempre, nel migliore dei modi, utilizzando i materiali migliori che ci sono, e sperando che non succeda mai niente. In questi giorni poi i volontari sono in giro per la città per consegnare derrate alimentare bisognosi. Nei magazzini della Croce Rossa le scorte stanno per finire. Nei giorni più difficili vengono effettuate anche 40 consegne giornaliere. In una di queste li accompagniamo. Siamo su una delle auto della Croce Rossa e stiamo andando a effettuare assieme ai volontari una consegna pacchi per le famiglie che hanno fatto richiesta. Una delle tante consegne che durante il giorno i volontari fanno quotidianamente. La settimana decedente di Pasqua siamo arrivati anche a fare dalle 20, 30, anche 40 consegne. Il giorno di Pasqua in particolare le persone chiamavano, non pensavano che noi fossimo lì. Siamo arrivati a fare anche 25 consegne di famiglie bisognose con 5, 6 elementi. E durante l'emergenza i volontari di storia ne hanno viste tante, qualcuna anche particolarmente commovente. A me personalmente il giorno di Pasqua è capitato di avere a che fare con un bambino al quale ho consegnato il luogo di Pasqua e la sensazione per me e per il bambino che era felice ma per me è stata unica e particolare. Mi sono commosso da padre, che sono anche io, che ho due bellissime bimbe, mi sono commosso a consegnare quel luogo di Pasqua per il bambino e a vedere la sua felicità. Nel frattempo arriviamo a destinazione, i volontari effettuano la consegna e ripartono. La giornata è ancora lunga e di nomi da spuntare sull'elenco ce ne sono ancora tanti. Al rientro ci accoglie la presidente Anita Lopiano, anche lei provata da questi giorni frenetici ma con l'ennesima buona notizia targata Croce Rossa. Siamo felici perché finalmente tutto si è sbloccato. La piattaforma ha accreditato i fondi, le barelle sono state ordinate, sono in viaggio, arriveranno, dovevano arrivare oggi ma essendo sabato, e sabato i corrieri non lavorano, quindi arriveranno lunedì. Abbiamo ordinato due barelle di alto bioconterimento, poi ci sono delle maschere che dovranno arrivare, maschere con filtri, maschere particolari, e ci sono delle mascherine, delle tute e delle visiere che consegneremo assieme alle due barelle di alto bioconterimento. Dateci la possibilità di celebrare i funerali, magari soltanto con i familiari stretti. Non possiamo non essere vicino a chi soffre. Troppe persone stanno soffrendo perché la morte di un caro oggi è un sequestro di persona, certamente motivato, ma dobbiamo farci carico di questo dolore dal punto di vista umano, oltre che cristiano. E questo l'ha accorato appello di Don Ivan Maffeis, sottosegretario della CEI. I vescovi italiani stanno approfondendo l'interlocuzione con il ministro dell'interno e si apprestano a completare un documento di proposte entro la fine della settimana. L'idea è quella di far riprendere dopo il 3 maggio la vita ecclesiale, pur con numeri condincentati da far rispettare attraverso l'opera di volontari. Cambiamo per adesso argomento rispetto all'emergenza coronavirus. Parliamo di un altro, tra virgolette, scippo alla nostra città. Non del patto per il sud, ma del taglio dei fondi per gli scavi di via Romagnoli. C'era un accordo con i proprietari. Lo dice l'ex assessore comunale Francesco Tranito. Secondo cui il progetto si può recuperare. E c'era appunto un accordo con i proprietari dell'area per acquisirli da parte del comune. I fondi per un totale di 100.000 euro sono stati definanziati. Non rientrano più tra quelli del patto per il sud, che sarebbero dovuti servire a coprire i costi per il completamento della campagna di scavo del sito archeologico di via Romagnoli. La decisione l'assunta a fine febbraio raggiunta a Musumeci, nuovamente al centro delle polemiche. Adesso anche per il taglio dei 33 milioni di euro destinati alla città. Niente scavi dei bagni ellenistici ritenuti di notevole importanza archeologica per i tecnici della regione. L'area è privata e il progetto non sarebbe praticabile. In realtà, poco prima che concludesse la sua esperienza nella giunta comunale, l'ex assessore Francesco Salinitro aveva definito un accordo con i proprietari di quell'area che erano disponibili a cederla al comune. L'ex esponente della giunta messinese riteneva che cessato il suo incarico, l'accordo fosse stato comunque concluso. Invece si è trovato davanti al definanziamento dei 100 mila euro e al fatto che l'intesa con i proprietari non sia mai stata ratificata. Spiega però che ci sono le condizioni per concludere l'intesa e che il comune farebbe quindi bene ad acquisire la proprietà dell'area. È importante averla, spiega, anche perché è a destinazione pubblica. Probabilmente anche il fatto che l'iter non sia andato avanti ha spinto i funzionali regionali a disporre il trasferimento dei fondi ad altri progetti, secondo Salinitro. Ci sono però tutte le condizioni per fare in modo che la campagna di Scabò possa poi essere effettuata. L'amministrazione comunale però dovrebbe comunque acquisire l'area. Pare che i proprietari non abbiano mutato le loro condizioni e sono quindi disponibili ad un'intesa da interlocuzioni avute dallo stesso Salinitro. Risulta che anche la sopraindendenza di Caltanissetta avesse definito un progetto per lo scavo di un'area archeologicamente molto importante. Il sopraindendente Daniela Bullo è pronta ad avere un dialogo costante con l'amministrazione comunale, lo spiega lo stesso Salinitro, su questa vicenda così come su altre che riguardano l'enorme patrimonio artistico e archeologico della città. Da anni si parla degli interventi nel sito di Via Romagnoli dove nel frattempo sono stati realizzati diversi immobili privati. Al momento però quel finanziamento è stato tagliato. Torniamo ancora con un servizio sempre sull'emergenza Covid ma sotto un altro aspetto perché l'artista gelese Giovanni Iudice ha donato due sue opere per aiutare gli ospedali. L'artista è tra gli 80 scelti che hanno deciso di donare una propria opera in questo caso un dipinto in un'iniziativa promossa dalla Valle d'Aosta denominata Arte per la Vita ma Iudice lo ha già fatto anche per l'ospedale di Gela. Un'opera d'arte donata per la vita Giovanni Iudice è tra gli 80 artisti che hanno deciso di donare una propria opera in questo caso un dipinto nella iniziativa promossa dalla Valle d'Aosta denominata Arte per la Vita. Si tratta di una dittografia pastellata a mano. L'intero ricavato sarà devoluto all'emergenza Covid ma Iudice lo ha già fatto anche per l'ospedale di Gela. Un collezionista privato non gelese ha comprato un'altra sua opera consentendo all'artista di poter fare l'ennesima donazione. In un momento storico così difficile e di grande difficoltà sociale ed economica l'arte deve assumere la sua funzione divulgativa attraverso i social come ho fatto prendere iniziativa anche attraverso inviti sia di strutture dell'arte, di musei, di associazioni coinvolgere artisti per beneficenza ma anche singole iniziative quali questa recente che è stata giudicata una mia opera acquistata da un collezionista siciliano che vuole mantenere l'anonimato e che il ricavato andrà a parte per acquisto di dispositivi sanitari per l'ospedale di Gela e parte per un banco alimentare che ha già ricevuto la somma attraverso una catena di supermercati. Dall'altro giudice è stato anche coinvolto in un altro grande evento una grande raccolta della regione Valle d'Aosta con tantissimi anche artisti che hanno aderito. Sì, ho avuto questo invito e ce n'è anche un altro importante su Milano che sarà pubblicizzato più che altro a fine mese e io accetto tutto quanto mi viene proposto e si ne die fin quando anzi ci auguriamo che presto termini questa grande crisi che ha coinvolto tutti quanti ma da parte mia c'è massima disponibilità anzi questo è l'auspicio per dire che nell'occasione in cui si vende un'opera d'arte probabilmente per la beneficenza si abbassano pure i prezzi pur di avere una liquidità necessaria per fare il bene. Da questa emergenza è emerso anche come si possono trarre ispirazioni e possano nascere nuovi artisti e talenti e giudice è pronto anche a dare le prime pennellate alla sua tela. Io sto lavorando anche a questa nuova tensione ma è solo perché ci si arriva per caso io credo che gli artisti debbano avere sempre un filo diretto con la realtà però insomma io non anticipo nulla però mi auguro davvero che al di là di questa idea di produttività o meno che prevalga davvero il senso della salute collettiva maggiore responsabilità e stiamo tutti a casa al momento poi si vedrà. Poteva avere conseguenze peggiori la fuga di tre giovani a bordo di un'auto nella notte per tentare di non farsi identificare dai carabinieri sono andati a finire contro la strada cinesca di un'attività commerciale di via Palazzi a Caposoprano i militari sono riusciti a bloccarli e identificarli pare che uno dei ragazzi fosse già stato segnalato per la violazione delle prescrizioni anti-Covid la Fiat Panda è finita contro la strada cinesca di una rivendita di bombole a gas supposto anche i vigili del fuoco la cronaca giudiziaria perché parliamo delle estorsioni che sono state perpetrate a Roma dal clan Rinzivillo perché prosegue il dibattimento nei confronti dei presunti fiancheggiatori del boss sessantenne Salvatore Rinzivillo anche a Roma non sarebbero mancate minacce e tentativi di estorsione ai danni di esercenti ce ne parla Rosario Cauchi in aula almeno fino allo stop forzato imposto dall'emergenza Covid sono stati sentiti anche alcuni testimoni compresi gli investigatori che seguirono la max inchiesta antimafia Druso Extra Fines non si è ancora conclusa l'istruttoria dibattimentale nei confronti di imputati accusati di aver avuto un ruolo nelle richieste estorsive ricostruite dagli investigatori romani e rivolte alle titolari di un'azienda di ingrosso d'ortofrutta e a quello di una locale nel centro della capitale per i PM della DDA Romana e Nissena sarebbero stati vicini al boss sessantenne Salvatore Rinzivillo già giudicato con il rito abbreviato davanti al GUP del Tribunale Capitolino a processo rispondono alle accuse l'imprenditore gelese Santo Valenti difeso dagli avvocati Flavio Sinatra e Ida Blasi Salvatore Iacona Marco Mondini Ettore Spampinato Viaggio Herler e Arianna Ursini nei loro confronti venne disposto il rinvio a giudizio secondo quanto emerso dall'inchiesta nella capitale e nelle aree limitrofe il gruppo di Rinzivillo avrebbe voluto imporre proprie aziende di fiducia e c'è chi si sarebbe messo a disposizione per riscuotere presunti crediti vantati da piccoli imprenditori amici ci sarebbero state pesanti minacce agli esercenti del posto anche con l'uso di armi e altre forme di intimidazione è già stata disposta una perizia sul contenuto delle intercettazioni dai giudici del collegio penale del Tribunale di Roma intercettazioni che sono servite agli inquirenti per arrivare a ricostruire i presunti interessi dei rinzivillo nella capitale gli esercenti vittime delle intimidazioni sono parti civili nel giudizio apostolica della divina misericordia fondata e diretta da Don Lino di Dio hanno realizzato un video di speranza attraverso la parola di Dio e un canto che hanno composto e musicato hanno partecipato alcune famiglie delle comunità fratelli sparsi in tutta Italia cardinali vescovi medici e vari personaggi del mondo dello spettacolo attori, cantanti, calciatori conduttori artisti, giornalisti e persone che hanno scompitto il coronavirus tutti insieme per inviare un messaggio di speranza pasquale adorare e augurare a tutti anche una buona domenica della misericordia il video che state vedendo attraverso questa immagine si intitola Coraggio non avere paura il testo è di Rocco Casciana la musica è invece di Giovanni Battista di Dio e più tardi lo troverete anche integralmente sulle nostre pagine social del quotidiano di Gela e di Tele Gela cambiamo ancora argomento parliamo della Gelas che apre invece ai professionisti esterni per realizzare il piano industriale 2020-2022 il manager Francesco Trainito ha varato un avviso pubblico per selezionare professionisti esterni si punta a costruire una struttura specializzata che possa assolvere ad eventuali incarichi tecnici qualora non fosse possibile provvedere con risorse interne la Gelas Multiservizio ormai da mesi affidata all'imprenditore Francesco Trainito si doterà di professionisti esterni per realizzare il piano industriale fino al 2022 il manager scelto dal sindaco Lucio Greco ha firmato l'avviso pubblico che prevede la costituzione di elenchi specializzati professionisti che verranno scelti potranno ottenere incarichi tecnici che riguardano più aree di riferimento si va da ingegneri e architetti per finire con esperti di diritto amministrativo Trainito nell'avviso scrive di una struttura altamente specializzata nel settore dei servizi di ingegneria architettura geologia aziendale politiche sociali e formazione ed infine in diritto amministrativo la società in house che fa riferimento al solo comune che ne è unico proprietario da tempo e sotto osservazione la nuova guida tra gli altri obiettivi gestionali a quello di risanare conti piuttosto malandati la multiservizi è una voce di spesa consistente per palazzo di città giovedì in consiglio comunale il sindaco greco ha indicato una spesa mensile che eseggira intorno ai 300.000 euro il manager può contare sul nuovo contratto di servizio e dovrebbe a breve arrivare all'approvazione del bilancio che è uno strumento fondamentale per assicurare servizi e sicurezza occupazionali in questa fase il nuovo corso esclusa l'ipotesi della messa in liquidazione ha pianificato il rientro finanziario con la copertura delle somme ancora dovute ai lavoratori a titolo di trattamento di fine rapporto ha imbastito un confronto con i fondi previdenziali ai quali farà pervenire le somme dovute senza dimenticare i crediti che la multiservizi deve ancora incassare che gli sono dovuti da palazzo di città la ricerca di professionisti esterni rientra nel piano industriale 2020-2022 anche se l'amministratore non ha mai nascosto l'interesse a concorrere anche per appalti esterni non necessariamente legati alle commesse del comune la selezione di professionisti esterni non vincolerà Ghelas qualora l'amministratore decidesse di affidarsi a risorse interne già inserite nell'organigramma aziendale la redazione di tele Gela e del quotidiano di Gela si stringono attorno a Federica Milano nostra collaboratrice conduttrice di alcune rubriche per la prematura morta del papà Giuseppe gli editori lo staff tecnico e giornalistico esprimono il proprio cordoglio per la grave perdita i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata per rispettare le ordinanze governative con questa notizia chiudiamo il nostro notiziario grazie per averci seguito se volete rivedere i nostri servizi tra poco li troverete on demand sulle nostre pagine social youtube e facebook grazie e buona domenica grazie